Anche nel comune di Lucignano per prima la giunta, ma poi speriamo lo facciano anche i cittadini, questa legge di iniziativa popolare è possibile firmarla? Certo che sì e inviterei anche i cittadini che vogliono di recarsi in comune dove è possibile l'ufficio anagrafe tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, tranne il mercoledì che è giorno di chiusura. A firmare perché credo sia importante, è una legge veramente promossa dal sindaco di Stazema, ma credo che tutti quanti abbiamo voluto partecipare proprio perché proprio oggi, nella giornata della memoria, è importante non dimenticare ma soprattutto cercare di fare tesoro di quello che è stato perché veramente potrebbe anche tornare. Dobbiamo assolutamente dare onore a quelli che purtroppo non ci sono più e fare in modo che questo non accada. Purtroppo anche oggi assistiamo invece a rigurgiti di stampo neonazista, un collega è stato minacciato, Marco Botti, insomma purtroppo questi accadimenti ci sono e allora forse punirli in maniera più dura potrebbe servire ad evitare che si ripetano. Sì, intanto la solidarietà a Marco Botti che è amico di Lucignano, amico nostro, credo che veramente ha dovuto subire una di quelle cose che non vorremmo più vedere, che purtroppo invece ci dicono che dobbiamo tenere alta l'attenzione. Quindi è giusto che le punizioni siano più forti, esemplari, ma soprattutto che non si dia segno di debolezza nel condannare queste cose e nel renderle veramente all'altezza di quello che sono e quelle giuste pene.